Dos Santos, buono l'appoggio, e il pallone entra, ed è gol! È un gol che dimostra ancora una volta le straordinarie doti baristiche di questo giocatore. Non ci ha pensato due volte per tirare da quella distanza, ha scaricato in rete una bordata micidiale. È una rete questa che vale da sola il prezzo del biglietto. Un missile che ha sorpreso tutti, compreso il portiere.